Inflazione e rialzi dei tassi di interesse ammonta a quasi 15 miliardi di euro il totale delle rate non pagate dagli italiani. Emerge da uno studio della Fabile. Difficoltà delle famiglie, denuncia la Federazione Autonoma delle Banche, riguardano soprattutto i prestiti a tasso variabile, con l'aumento del costo del denaro portato dallo 0 al 4% in 11 mesi.